benvenuti su cladiomash.com se vedete dei fili di polvere che girano è perché sto facendo questo video subito dopo aver fatto quello per la pulizia del computer quindi ho appena fatto volare polvere ovunque e quindi probabilmente se mi sentirete tossire il motivo è sempre lo stesso comunque in questo video voglio farvi vedere come montare un'unità ssd di tipo nvme quindi con connessione m2 quella che ho scelto io è la 970 evo plus della samsung personalmente ritengo per quanto riguarda le unità ssd la samsung la migliore azienda quindi i prodotti samsung i migliori attualmente in commercio ho preso la versione da un terabyte perché avevo già un disco ssd vediamo se riesco a farlo vedere c'è ancora un po di polvere in realtà dovrei ripassare comunque è un disco ssd sempre samsung che se non sbaglio dovrebbe essere 850 evo comunque da 256 giga ho deciso questa volta di passare non dal disco sata ma questo m2 perché c'è un'enorme differenza in quanto per quanto riguarda la velocità di trasmissione e questi questi modelli hanno probabilmente una velocità di trasmissione 10 volte superiore rispetto a quelli sata non c'è scritto comunque sono molto superiori e sono ottimi per l'utilizzo di software grafici quindi gli altri sono consigliati per un computer normale e per i giochi ma nel caso in cui doveste lavorare anche con dei software grafici quindi lavorare anche con fotoritocco videoritocco software 3d sicuramente è molto meglio utilizzare questi piuttosto che un classico disco sata il prezzo è molto più alto ovviamente rispetto agli altri intanto li apro al momento su amazon sono questo questo modello qui costa 200 euro quindi un terabyte m2 al momento è a 200 euro ci sono quelli da un terabyte di altre marche o anche quelli samsung ma dell'altro tipo quindi con connessione sata che dovrebbero costare sui 130 140 euro allora vi faccio vedere anche com'è vediamo se provo a farlo davanti no non ci riesco che lo faccio dietro alla fotocamera e poi vi faccio vedere con la memoria ok è così quindi è molto molto più piccola rispetto a un qualsiasi altro disco sata o comunque anche a un hard disk all'interno della scatola troviamo spero di non far volare via la memoria comunque abbiamo la guida di installazione e nient'altro per quanto riguarda invece il disco sata avevo trovato anche un cd con i software quindi con samsung magician e l'altro software che al momento non mi ricordo come si chiama che è quello per effettuare la migrazione che ci permette quindi di trasferire i dati da un sto vedendo se sul manuale intanto c'è scritto no mi dice samsung magician ok probabilmente poi casomai lo farò in un altro video perché penso di farvi vedere anche come trasferire i dati da un hard disk o da un altro disco ssd a uno nuovo quindi vedremo come farlo comunque abbiamo samsung magician che gestisce i dischi ssd samsung quindi praticamente ci dice lo stato e ci dice quanti gigabyte terabyte sono stati trasferiti sulle unità ssd quindi è un ottimo software ed è anche il motivo per cui continuo a preferire i samsung perché oltre alla enorme stabilità e all'enorme velocità che hanno rispetto agli altri hanno davvero dei software fantastici quindi è vero che costano di più ma la spesa ve la ripagate con l'utilizzo cioè andando ad utilizzarli vedrete davvero un enorme differenza rispetto agli altri allora andiamo a vedere come andarlo ad installare intanto dobbiamo assicurarci di avere un un attacco di tipo m2 sulla nostra scheda madre cercherò di fare uno zoom possiamo vedere nel mio caso eccolo quindi è qui il socket m2 vediamo se riesco devo girare no è una cosa la scelta pessima stacco un attimo dal cavalletto ok vediamo m2 socket 3 ed è questo qui e qui dobbiamo inserire il nostro la nostra scheda ssd appena acquistata quindi rimetto sul cavalletto lo smartphone allora purtroppo l'altezza del cavalletto è regolabile ma questa è l'altezza minima quindi più basso di così non posso impostarlo vediamo se riesco a farvi vedere come andarlo ad inserire intanto come detto questo è il punto in cui dobbiamo andare ad inserire la scheda vediamo che la nostra scheda ha un ingresso più più lungo uno slot più lungo ed uno più corto quindi dobbiamo andare a vedere nel nostro nella nostra connessione sulla scheda madre qual è il lato più lungo e qual è quello più corto quindi andrà inserita in questo modo possiamo già vedere anche comunque dall'impostazione che abbiamo sopra quello più lungo e sotto quello più corto quindi tenendo la nostra scheda andiamo ad inserirla è un po scomodo farlo con la fotocamera davanti vediamo se riesco ok perfetto entrata in realtà un attimo che metto in pausa allora andava smontata ovviamente l'avevo inserita per farvi vedere ma non l'avevo fatto la vite che era presente qui che vi faccio vedere è questa che dovrete tenere con un paio di pinze e andare ok andare a svitare quindi alla fine dovremmo avere lo svito velocemente dovremmo avere la base da rinserire sulla scheda madre e la vite che poi andrà a reggere la nostra scheda ssd quindi per prima cosa vado a rimettere la base sulla scheda madre come detto con la fotocamera davanti è scomodissimo metto un attimo in pausa perché sennò non ci riuscirò mai ok potete vedere che ho messo di nuovo la vite sulla base ma senza la piccola vite che chiudeva perché questa mi servirà per reggere la scheda ssd che ora vado a rimettere quindi riprendo la scheda e la vado a reinserire vediamo se giro leggermente ok la vado a reinserire come l'avevo inserita prima quindi ok adesso devo mettere la vite qui giustamente con la mano davanti devo mettere la vite qui che mi reggerà la scheda sul perno presente sotto vediamo se riesco a farlo con la fotocamera perché magari questa cosa è utile da far vedere mi cadrà 20.000 volte ok no è andata quindi sono riuscito a farla entrare la avvito perfetto è abbastanza stretta possiamo provare a vedere che la scheda non si muove e allora sicuramente vediamo se si allontano un po' lo zoom ok la polvere sotto è una cosa oscena ok la devo togliere comunque possiamo vedere che sicuramente questo tipo di ssd con connessione m2 è molto più piccola rispetto a quelle sata la differenza è che ovviamente dipende dalla scheda madre in uso nel mio caso ne ho una sola porta ma credo che la maggior parte ne abbiano solo una quindi possiamo mettere una scheda ssd di questo tipo mentre per quanto riguarda le sata ovviamente abbiamo più spazio generalmente sono sei quindi ovviamente in questo caso di questo tipo ne possiamo utilizzare una sola infatti non vado a sostituire completamente il mio disco sata precedente lo terrò come disco secondario però voglio spostare il sistema operativo e i software principali su questo nuovo disco sata come detto questa è molto molto più performante rispetto alla ssd sata che comunque è già meglio rispetto ai classici hard disk quindi se volete accelerare migliorare le prestazioni del vostro computer con un disco che ha una velocità di lettura e scrittura superiori assolutamente vi consiglio questo tipo di disco con con attacco m2 m.2 è sicuramente il miglior tipo di disco ssd seguito poi dai sata ssd e poi per ultimi gli hard disk quindi abbiamo visto come montare un disco m2 su una scheda madre ovviamente deve avere la connessione abbiamo visto che il socket deve esserci scritto se lo vedete infatti in alto sotto alla scritta samsung della scheda sulla scheda madre in alto trovate la dicitura m.2 come detto quindi questo è tutto su come montarlo magari vi farò in futuro un video in cui vi mostro invece come configurarlo quindi come andare a spostare i dati dall'hard disk precedente a quello nuovo quindi come fare per spostarci le informazioni da un altro disk all'altro per il momento quindi è tutto vi ringrazio per aver seguito questo video se vi è piaciuto come sempre vi invito a mettere un like condividerlo e commentarlo grazie ancora e ci vediamo al prossimo video